Un invito pressante da parte mia a partecipare alla Perugia Sisi. È una delle marce, direi, fondamentali oggi per la pace. Ringraziamo Capitini che l'ha inventata. Ma in questo momento talmente difficile, talmente tragico, è importante per tutti noi italiani scendere in piazza. Perché dico questo? Perché viviamo un mondo che fa la guerra contro i poveri, a livello economico, finanziario. Poi questo mondo che sta bene ha bisogno di armarsi per difendere i propri privilegi. Facciamo guerre, ammazziamo per fama, ammazziamo per guerra e la gente deve scappare. E a pagare le spese di tutto questo è il pianeta. Non possiamo accettare di continuare così. Dobbiamo incominciare effettivamente a vivere in pace fra di noi, ma anche con la madre terra che il Signore ce l'ha donato, ma anche con i poveri che stiamo opprimendo. Deve nascere un mondo un po' più decente, dove tutti possono sedersi alla comune mensa e gioire dei beni che il Signore ci ha dato.